Dopo un minuto e mezzo che l'ho inquadrato, gli sfero due colpi micidiali e lo metto subito cappò. Aveva la soffa, subito, si è visto subito. La soffa del campione, del guerriero, l'uomo che non indietreggia mai. Emiliano non è uno di quei bugi che si vede sul pink e il pink è pasta, ma è uno che lavora molto di testa, ti aiuta proprio a concepire una cosa più simile proprio alla scherma. Sulla guardia, sulla guardia, dai! Cugidata è intelligenza, è tecnica, è scherma, è la nobile arte. Io quando combatto Emiliano non lo vedo, perché io ho tanta paura. Un giorno, non so, un sardo dice questo, rassumire, mio cugino non ne voglio venire. Gli ha detto io, guarda Emiliano, che là sopra ho tuo cugino, tuo cugino, quello ti dà qualche sganassone fatto bene e ti manda per terra col culo per terra. Il pugilato in Italia è molto difficile. Abbiamo le televisioni che hanno sposato il calcio e per gli altri sport minori c'è ben poco. Non puoi mantenere una famiglia o te stesso solo facendo il pugilato. O solo chi è innamorato veramente di questo sport lo fa per la passione. Emiliano Marsili è il nuovo campione del mondo, difesi leggeri IPO. Io un giorno sarò un grande campione. Porto un altro nome di città vecchia, del porto dove lavoro e dell'Italia.